Allora, buongiorno a tutti, mi presento, sono Maximilian Linzer, questa presentazione sarà in italiano, lo premetto. Allora, io lavoro come ingegnere di processo presso il gruppo LEM e la nostra azienda lavora nell'ambito degli accessori moda e il suo DNA nasce dalla galvanica, quindi da quel processo che trasforma quella che può essere una fibbia, un bottone, un anello, da un metallo grezzo a quello che può sembrare un gioiello. E questo processo è un processo che ormai è stabilito da più di un secolo e però sempre dal punto di vista della sostenibilità e dell'innovazione solleva dei problemi perché è un processo che comunque ha un suo impatto ambientale. quello che il gruppo LEM ha deciso di fare per andare incontro alle sfide del futuro per la sostenibilità è puntare su nuove tecnologie che possano permettere lo sfruttamento di nuovi materiali, tutto nell'ottica di ridurre l'impatto ambientale delle lavorazioni e di allo stesso tempo fornire ai nostri clienti, che sono le case di moda, un prodotto nuovo, innovativo che dia possibilità anche di sviluppare nuove finiture, nuovi risultati estetici. Questo processo di cui io mi occupo come ingegnere di processo è la deposizione fisica da fase vapore o PVD. Cos'è? È una famiglia di tecnologie, di processi, che ci permette di rivestire i nostri accessori, i nostri componenti, non più attraverso da, passando da soluzioni come sono quelle soluzioni chimiche, diciamo così, come quelle utilizzate in galvanica piuttosto che vernisatura, ma tramite un semplice processo di evaporazione del metallo con cui vogliamo andare a rivestire il nostro accessorio, da una sorgente all'oggetto che noi vogliamo trasformare, diciamo. Allora, la tecnologia non è nuova. Come si vede in questa diapositiva, parliamo di prime applicazioni, parliamo di inizio novecento, per cui non è una novità. La novità è portare questa tipologia di processi nel mondo della moda, quindi adattare un processo a quelle che sono le richieste e le esigenze di un particolare settore. Allora, a cosa serve? Il PVD, come si diceva prima, serve a andare a creare un rivestimento su un oggetto, su un materiale. Un rivestimento, come viene fatto? Viene fatto vaporizzando il materiale di una sorgente solida e trasportando questo materiale vaporizzato sull'oggetto che noi vogliamo rivestire. È un processo che non prevede trasformazioni chimiche, per cui semplicemente porto il mio metallo, tipicamente, da un posto a un altro. Il che dà già delle buone premesse a livello teorico per dire che ho una riduzione dell'impatto ambientale. Campi d'applicazione. La moda, diciamo, è uno degli ultimi settori che sta iniziando ad applicare questa tecnologia. È usatissimo già da anni in tutti quei campi tecnici che richiedono rivestimenti con particolari proprietà anti-usura, piuttosto che possibilità proprietà elettroniche e proprietà magnetiche. Per cui, per la moda è un processo nuovo, ma in realtà non è niente di extraterrestre, diciamo. Come funziona un impianto PVD? Tanto per darvi un'idea e tanto per capire un pochino quali sono state le limitazioni e gli ostacoli a cui siamo andati incontro per adattare questi processi al campo della moda. In pratica un processo PVD funziona attraverso una camera da vuoto, perché il processo avviene in vuoto. All'interno di questa camera vengono caricati su dei telai i pezzi che noi vogliamo andare a rivestire e da delle sorgenti che sono tipicamente poste sulle pareti di questa camera si va a liberare il metallo. Questo metallo è poi libero di andare a depositarsi sui pezzi. In vuoto, perché in vuoto? Perché non so se avete mai provato a scaldare un pezzo di metallo, la maggior parte dei metalli scaldati o evaporati o in aria tendono a ossidarsi. Il vuoto si permette di controllare l'atmosfera, la situazione in cui tutto questo processo avviene e andare a realizzare un processo strutturato, studiato per ottenere un materiale le cui proprietà sono per noi di interesse. Una famiglia di processi per cui si va dall'evaporazione in vuoto, qua vado veloce, spattering, sono tutti nomi strani ma che fondamentalmente vanno a rappresentare una serie di metodologie, di tecnologie per cui io vado a liberare il metallo per via fisica e a trasportarlo dalla mia sorgente, ancora una volta, al mio pezzo. Per cui queste tecnologie, come potete vedere dall'immagine, adesso non sono bellissime qua, ma sfruttano dei plasmi che vanno a erodere i materiali, qua ci sono le sorgenti, vanno a liberare il metallo da queste sorgenti consentendoci di andarlo a depositare. Qua una rappresentazione un po' schematica, cosa succede quando noi andiamo a fare questa tipologia di processi? Abbiamo, fatemi vedere se sono puntatore, no? Vabbè, vengo io. Allora, praticamente, immaginate siamo dentro una grande camera di acciaio qua, qua alla parete della mia camera ho quello che si chiama target, è la sorgente metallica. Sul target ho il materiale che io voglio andare a depositare. Di qua ho i miei pezzi montati su dei telai. Cosa succede? Che io vado a inserire nella camera un gas inerte, questo gas eccitato dal plasma va a erodere la superficie del mio metallo e, atomo per atomo, il mio metallo passa dalla sorgente o target ai miei pezzi, andando a formare un rivestimento. Il tutto, ancora una volta, avviene in vuoto. Per cui gli impianti necessari a andare a formare questa tipologia di rivestimenti sono macchinari complessi e costosi, che però giustificano l'investimento nel senso in cui permettono di andare a creare nuove tipologie di rivestimenti, a sfruttare nuove tipologie di materiali. L'evaporazione, ancora una volta, chiunque di voi abbia uno strato antiriflesso sulle lenti degli occhiali, le vostre lenti sono passate da un macchinario simile, anzi proprio da uno fatto così. Praticamente qua su ci mettono le lenti, sotto c'è un ossido che noi vogliamo andare a depositare e dentro questi macchinari viene fatto evaporare questo ossido, formando questo rivestimento trasparente sulle lenti degli occhiali che può far essere l'antigraffio piuttosto che l'antiriflesso. Per cui alla fine è una tecnologia versatile, questa qua del PVD. E queste sono tutte metodologie, questa è la prossima, la deposizione d'arco, con cui noi possiamo andare a liberare materiale per andare a costruire i nostri depositi. beh, questa la salto, non vi annoio. Arriviamo a cosa possiamo depositare. Praticamente, questa è la tavola periodica, tutti gli elementi che a temperatura e pressione ambiente sono solidi, per cui sono tutti questi qua colorati in verde chiaro. Ora, per applicazioni decorative non ha senso depositare uranio, perché non sarebbe il caso. I metalli che vengono comunemente utilizzati sono il titanio, lo zirconio, il cromo, l'oro, l'argento e l'alluminio. Per ora, nel senso che questi sono i metalli con cui è più facile lavorare, con cui è più economico lavorare. Però le possibilità per sviluppi futuri sono immense. Un'altra cosa che si può fare è andare a costruire dei rivestimenti con quello che si chiama spattering reattivo, deposizione reattiva, in cui andiamo a prendere il nostro metallo e andiamo a farlo reagire con un altro elemento. In questo modo possiamo andare a costruire sui nostri oggetti, sui nostri pezzi, dei rivestimenti che non sono più metallici in natura, ma ceramici, come possono essere ad esempio questo tin che è nitrullo di titanio, piuttosto che carburi, quindi materiali estremamente duri, estremamente resistenti, che anche per applicazioni come quelle della moda, dove comunque, soprattutto nell'alta moda, le richieste in campo di resistenza all'usura, comunque vita dell'oggetto, sono abbastanza spinte e soprattutto nell'ottica di voler dare più lunga vita all'oggetto e quindi una vita più lunga vuol dire meno consumi, perché non andrò a comprare un oggetto nuovo se quello che è ancora esteticamente bello. Questo è come arriva a noi il materiale che andiamo a utilizzare per creare i nostri rivestimenti, per cui vedete non si tratta di niente di strano, praticamente sono solo dei lingotti o dei tubi costituiti del materiale che noi vogliamo andare a depositare. La scelta della geometria dipende solo da qual è l'efficienza del processo che andiamo a sfruttare. Sub strati, ancora una volta, gli accessori moda sono tipicamente realizzati in metallo e questa tipologia di materiale si adatta perfettamente alle tecniche di posizione PVD ma il PVD apre anche la possibilità di andare a creare rivestimenti decorativi su altre tipologie di materiali che potrebbero essere in futuro, ad esempio vetro, piuttosto che materiali inorganici, polimeri, anche polimeri provenienti da biodegradabili e ad esempio qualche anno fa abbiamo anche fatto un esperimento così per divertirci nel creare rivestimenti nel dorare dei sassi e si è ottenuto un buon risultato per cui le possibilità sono veramente tante è il motivo per cui abbiamo voluto investire in questa tecnologia. Questo è un impianto e come funziona? Il gruppo LEM ha deciso di creare uno spazio dedicato a questa famiglia di tecnologie e di mettersi alla prova cercando di spingere l'applicazione di questa tipologia di processi. Praticamente per darvi un'idea di come funziona il tutto come il processo parte dal prendere l'oggetto che vogliamo rivestire fissarlo a un telaio caricarlo all'interno di questa camera da vuoto nella quale avviene la deposizione viene rimossa poi l'aria da questa camera e a quel punto iniziamo a liberare il metallo dalle sorgenti. Quanto dura il tutto? I tempi non sono cortissimi nel senso che una camera diciamo quindi un batch di processo avviene nel giro di due o tre ore in base al materiale che andiamo a realizzare le temperature sono dalla temperatura ambiente a 250 gradi tutto in base al materiale su cui andiamo a lavorare al deposito che vogliamo realizzare per cui c'è anche su questo lato abbiamo una certa flessibilità di questa tecnologia. Abbiamo poi deciso di specializzarsi in quello che già eravamo in grado di fare per cui siamo partiti dai materiali che sono ottone, zama e acciaio inox con cui già eravamo familiari e che già lavoravamo. Ora il PVD non è che è una tecnologia che non ha pecche per cui nel momento in cui abbiamo materiali di base che possono essere ottone o zama che sono suscettibili a ossidazione è ancora necessario un passaggio di galvanica per creare uno strato barriera per proteggere il nostro accessorio dove il PVD invece diciamo regna sovrano è sulle lavorazioni sull'acciaio inox perché in quel caso possiamo arrivare a decorare quindi a creare un rivestimento decorativo sul nostro oggetto sul nostro accessorio senza ulteriori fasi di lavorazione per cui tutta la fase di creare un rivestimento decorativo ha impatto estremamente ridotto geometrie del pezzo chiaramente il PVD un'altra limitazione è il fatto che è una tecnica a linea di tiro cioè io ho detto libero gli atomi dalla mia sorgente questi atomi non è che vanno ovunque arrivano dove vedono per cui in linea di tiro simile alla vernisatura per cui tutto quello che io voglio rivestire deve essere visibile dopo questo logicamente ho anche bisogno di fissare il mio pezzo a un supporto e anche quei punti di fissaggio non sarò in grado di rivestirli però salvo questi accorgimenti è possibile avere ottimi gradi di rivestimento degli articoli trattati anche le dimensioni dei pezzi sono un pochino limitanti perché dovendogli mettere dentro una camera chiusa immaginate come un forno non posso avere un pezzo di dimensioni qualsiasi ma devo avere delle dimensioni che sono più o meno 80 cm di altezza con 15 cm massimi di ingombro laterale che per il settore della moda per il 90% dei casi non è estremamente limitante questo è un riassunto del ciclo produttivo che abbiamo adottato come vi dicevo prima il pezzo viene fissato a antelaio in quella che si dice legatura i pezzi vengono lavati asciugati e preparati alla deposizione abbiamo tre impianti di deposizione dedicati a diversi tipi di rivestimenti che tra pochino vi faccio vedere dopodiché si controlla le qualità il colore resistenza spessore del deposito e se tutto va bene si procede a spedire il materiale per il pezzo alla fase successiva della sua vita il decorativo allora sul decorativo cosa si fa? si prendono questi materiali prima si è visto i metalli i metalli tipicamente togli l'oro il rame sono tutti grigi per cui nel momento in cui la moda richiede colori richiede qualcosa che abbia delle proprietà estetiche richieste si lavora tantissimo con processi reattivi per cui si vanno a creare composti dei metalli questi composti sono ad esempio i neri in cui regolando le proprietà quanto metallo piuttosto che quanto gas reattivo inseriamo in camera posso regolare il colore da un griso fumè fino a un nero profondo il materiale con cui si ottengono questi colori sono carburi di metalli quindi carburo di titanio carburo di cromo sono materiali che hanno ottime proprietà anti usura come poi vedremo quasi tutti quelli che vengono usati per le applicazioni decorative idem non hanno assolutamente problemi di ossidazione quindi un'ottima anche vita nel tempo come vi dicevo prima si arriva da un griso parecchio chiaro fino a un nero profondo arrivando poi agli ori gli ori possono essere realizzati utilizzando direttamente un metallo prezioso come l'esempio di questi in queste applicazioni si va a rivestire il nostro pezzo con un deposito d'oro ottenuto non per passaggi chimici ma per un processo come il pvd che è totalmente che sfrutta solo i processi fisici quindi evaporazione e risolidificazione generalmente poi con gli ori che è stata la prima applicazione del pvd in ambito decorativo si usa un trucco questo trucco è mettere sotto al deposito d'oro un deposito di similoro che sono nitruri di titanio e zirconio in questo caso si mette questo materiale sotto e poi lo strato d'oro quando nella vita del mio oggetto andrò a scoprire il mio rivestimento d'oro perché l'oro è un metallo tenero che non ha durata eterna sotto il mio oggetto non vedrò una volta tolto l'oro grigio che mi fa capire che ho rimosso totalmente il metallo prezioso ma sempre un rivestimento di colore giallo che maschera l'usura del pezzo in questo caso con qualche esperimento si è visto che la luminosità e il tono colore anche dopo 30-40 ore di usura artificiale quindi immaginate il pezzo dentro a un buratto con della ceramica che invecchia mantiene la sua luminosità e il suo colore poi ci sono i fintiori anche qui è un campo di sviluppo perché sarebbe bello riuscire a creare un colore un rivestimento simile all'oro senza utilizzare metalli preziosi non ci siamo ancora nel senso si vede la differenza tra i materiali ma per alcune applicazioni si sta avvicinando per cui si va anche a sostituire l'utilizzo di metalli preziosi e che come si diceva prima possono avere problemi nel loro ciclo di approvisionamento con metalli che tendenzialmente sono abbondanti in natura non creano problemi di sfruttamento di risorse rare o preziose e allo stesso tempo quindi sono più sostenibili e consentono anche di ridurre il costo delle lavorazioni per cui abbiamo questa famiglia di fintiori i metalli puri che come vi dicevo prima sono tendenzialmente grigi possono essere anche in questo caso utilizzati in sostituzione di metalli preziosi la cosa più interessante è la possibilità di realizzare cromature senza l'utilizzo di cromo 6 cromo esavalente che è cancerogeno e ha tutta una serie di problemi legati al suo utilizzo ma possiamo realizzare cromature direttamente rivestendo il pezzo di cromo senza trasformazioni chimiche arriviamo poi a tutta un'altra famiglia di colori come potete vedere un pochino ci sono varie ci sono molte possibilità di colore realizzabili con il pvd altre che stanno venendo sviluppate e arriviamo forse all'applicazione un pochino più carina quella che salta un po' più all'occhio del pvd che è la realizzazione di questi depositi iridescenti o arcobaleno questi depositi in cui il pezzo esce fuori dal processo multicolor sfruttano invece di un metallo di un materiale colorato la deposizione di un rivestimento sottile che va a interferire con la luce e che lascia emergere solo particolari colori dal nostro pezzo in questo modo andando a rivestire il pezzo con questi materiali e andando a variare lo spessore di questi depositi riusciamo a ottenere tutta una serie di colori sul pezzo che non è possibile ottenere con altre tecnologie di Samo sempre questi possono poi essere regolati per andare a dare ai nostri pezzi tutta una serie di colori o di sfumature di colori che ancora una volta non è possibile ottenere tramite altre tecnologie arriviamo poi a questo è un breve riassunto di quello che ci garantisce di fare questa nuova tecnologia quelli che sono gli obiettivi e il motivo per cui siamo andati come gruppo a puntare su questa nuova tipologia di rivestimenti in particolare quindi l'impatto ridotto e anche la possibilità di usare materiali nuovi materiali che non diano problemi a livello sia di contatto con la pelle sia a livello di approvisionamento si è fatta poi per chiudere una breve valutazione dell'impatto ambientale quindi per vedere se effettivamente dietro a queste premesse teoriche che ci sono abbiamo poi effettivamente un vantaggio reale nell'utilizzare questa tecnologia a livello di emissioni non abbiamo emissioni con le tecnologie pvd perché l'unica cosa che viene emessa è l'aria che abbiamo tolto dalle camere da vuoto su un impianto di galvanica invece abbiamo emissioni ora le vedete dei nomi cianuri ammoniaca sono tutti valori molto bassi non è che diciamo che la galvanica è la morte del pianeta però comunque sono tutte cose che dobbiamo cercare di limitare a livello di consumi elettrici invece se vogliamo è un pochino il punto debole perché vedete siamo circa 10 volte il valore per centimetro quadro rivestito che otteniamo in galvanica è anche vero che l'energia elettrica possiamo scegliere come acquistarla possiamo scegliere come produrla e sempre di più in futuro sarà fondamentale questo punto nel senso sia maggiori consumi elettrici ma se l'energia elettrica la acquisto o la genero da fonti rinnovabili allora il mio impatto è effettivamente ridotto all'utilizzo di prodotti chimici non abbiamo utilizzo di prodotti chimici tranne i metalli da cui le nostre sorgenti e una quantità irrisoria di gas utilizzati durante il processo a livello di scarichi idrici vedete il consumo d'acqua non è basso però la quantità di metalli o di solidi che troviamo nell'acqua conferite è significativamente ridotto per cui fondamentalmente questo cosa vuol dire che noi scarichiamo acqua pulita idem il consumo di risorse quando andiamo a depositare a creare rivestimenti d'oro sfruttando certi accorgimenti come vi dicevo prima riusciamo anche a ridurre la quantità di oro utilizzato l'utilizzo per i resti di metalli è eccessivamente quasi nullo se non bassissimo per cui andando a fare un pochino una classifica vediamo che effettivamente questo processo mantiene parecchie delle sue promesse risolti alcuni punti come può essere quello del consumo di energia permetterà in futuro di sviluppare di lavorare con un impatto ambientale ridotto permettendo allo stesso tempo nuove tipologie di applicazioni nuove tipologie di rivestimenti e quindi garantendosi per il futuro un'ottima tecnologia e un'ottima serie di applicazioni per cui un po' per riassunto di quello che si è detto a livello economico che comunque interessa sempre si consuma meno metallo prezioso questo è sicuramente un punto chiave soprattutto è un punto chiave anche quando non si non si parla di metalli come l'acciaio inox in cui sono necessarie lavorazioni aggiuntive a livello tecnico andiamo a creare dei rivestimenti estremamente duri estremamente compatti che quindi hanno ottime proprietà anti-usura e a livello estetico abbiamo tutta una nuova famiglia di rivestimenti di colori che possiamo andare a utilizzare per rivestire i nostri pezzi tutto nell'ottica di ridurre l'impatto ambientale e di quindi salvaguardare anche il futuro del pianeta e questo è più o meno tutto spero di essere stato più o meno chiaro di non aver dato troppi concetti dimmi sì sì grazie proviamo vediamo ok no sì grazie perfetto no solo una domanda siccome si sente parlare spesso del PVD si sente parlare come completa sostituzione della galvanica in futuro allora ascoltando la tua presentazione effettivamente mi sono resa conto che non sempre può sostituire la galvanica la mia domanda è è una questione di tempo nel senso che ci sarà un'evoluzione ci sarà miglioreranno anche le performance oppure rimarrà sempre così allora secondo me vista risposta mia personale non esiste che una tecnologia sostituisca di punto in bianco con un'altra il PVD soffre di due principali problemi dove la galvanica invece è regina nel senso la galvanica ha una proprietà di livellare di lucidare le superfici che il PVD non ha e fisicamente non avrà mai e questa non verrà mai sostituita secondo punto critico è come si diceva prima dove non lavoro su azzaio inox ho bisogno di proteggere il metallo di base ecco lì il PVD non riesce a creare uno strato barriera soprattutto su geometrie complesse che sono poi quelle utilizzate dalla moda in queste due per questi due punti il PVD non sostituirà almeno in tempi brevi e salvo grosse innovazioni la galvanica su quello non c'è dubbio apre diciamo la possibilità di ci dà più strumenti per andare a affrontare problemi c'è uno strumento in più dove il PVD troverà la sua applicazione sostituirà la galvanica dove non la potrà sostituire per necessità di materiali estetiche quello che può essere non la sostituirà su quello per me non c'è dubbio grazie perché non lo sapevo come on non la sostituirà la sua applicazione non la sostituirà la sua applicazione Grazie.